cosmai sei orato mi faccio solo se esi c'è i caffati e fece sempre sicuro, fissimo loro mi siamo il decoratore che li disegni li faccio mi portano alla badd che fa? perchè? che fate? non lo vado alla baddade non lo faccio non lo faccio Grazie a tutti. Grazie a tutti.